Salve ragazzi qui è Delta28 e siamo su... riesco a muoverlo? Aspettate... No. Bene, è andato a fanculo i tasti. Comunque qui. Salve ragazzi qui è Delta28 e siamo su Jurassic Park World Park e non riesco a far muovere i tasti. Gribbio. Ma non mi interessa... No. Dai! Sì, volevo fare una partita, uno special che è uscito Jurassic Park World e non riesco a... Non faccio una cosa, speriamo se riesco. Eh sì, quella è la... il sucomimus. Ma... va, 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 va. Ah! Non riesco... chissene pre... Fatemi escele da questo... No, niente, non riesco a... Aspettate... Assafa! Gribbio! Ce l'ho fatta! Pesante! Assafa, allora... Che era? Museo? No. Che cacchio era? Arcade! Eh. Allora... Ecco qua lo... il famoso Stigi, ragazzi, quello là di Jurassic World. Sì, che spacca i muri. Ma non ci interessa, giustamente. E si è... e si è fancolizzato il... Ah, ecco. Lo Spino sa quanto sei brutto. O siamo... o i Paki! Ovviamente contro il T-Rex, ma... giusto! Giusto! Giustissimo! Perca miseria, che sfiga! Uh... quanto sei bello, Paki! Sì, volevo fare uno special e... ecco qua! Che simpatico! No, non mi ricordo nulla, ragazzi! Eh, sto giocando una chiave! E infatti ho già cominciato malissimo! No! No! No, 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 no! No, 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 no! Bene, bene, bravo! Colpiamolo, facciamogli male! Oh, no! Oh, preso, no! La persona no se l'è mangiato il T-Rex, ma bene anche io... Sì, sì, si incazza lui... non posso fare nulla apposta parma va bene no non ci provare ecco guaccia la patata da essa testa simpatico bravo no in dalle subito 2 dai eh vabbè si incazza da solo ma io non so fare io special in questo gioco ho colpito il povero tizio dai giochiamo vai pacchi distruggiamo il re dei dei dinosauri che poi dovrebbe far male che colpisce la sotto e crede che per un carnivore la fa molto male contro chi eh lo stigi ragazzi lo stigi che tutti quanti amiamo in jurassic world lo stigi le due teste più dure della storia che poi aveva perso di una capra dai aveva perso di una capra poi porca misera le corna di sto sto coso hanno le stesse azioni non so se l'avete notato eh vabbè non in quel perché ma sparisci il capucchione capucchio no 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 bravo che è successo ma ma stordito è la prima volta che mi succede no no tu sei una bestia di satana che poi tecnicamente è vero il suo nome è riferito no ecco così impari stammi lontano essere infame vittoria che verso bravissimo dai sfondiamolo massacra madonna manco manco johnsina facciamo vedere chi comanda no quello era un no 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 bella no dai 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 facciamo questo bello special so perché è uscito Jurassic World e lo so ragazzi per il momento posso fare un altro questo video che ho probato di connessione quindi ho detto facciamo un altro uno special veloce di un gioco per PS1 a meno a quei tempi non ci provare non ci provare che è successo spiegatemelo il bug bravo mo' conto a chi combattia ah beh spinosauro dai siamo orgogliosi contro lo spinosauro ragazzi dai lo spinosauro questo gioco è degli anni 90 quindi ecco come rappresentavo lo spinosauro dai mamma mia che perso di merda oddio siamo nell'ingen distruggiamolo che poi hanno fatto la dinamica dell'effetto che poi uno dice ah beh che ma è strano ma a quei tempi non si sapeva com'era lo spinosauro è vero ma anche in Jurassic Park 3 a virgolette a virgolette poi ripetiamo l'hanno fatto apposta per fare una cosa più più fantascientifica e più cinematografica qua veramente credevano che era così lo spinosauro bella l'ingero credo che si arrabbierà un po' per il fatto che abbia distrutto un po' di di computer bravo se io faccio quasi stesse mosse perché non so fare altre mosse non posso stirare cose a caso perché duttare tasto ah ecco vedete fa la stessa l'osped qua no capucchi proprio bello vabbè poverino vabbè ma quello stanno sempre in mezzo sta gente non c'entra un cacchio ma deve stare a rompe i coglioni vai dai dai vai 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 pachi vai pachi vai bellissima pachi fai vedere allo spinosauro chi vale mamma mia quando fai vedere queste cose brutte fanno mai un gioco a Jurassic Park o Jurassic World Evolution in questo genere Jurassic World scusate con queste evolution lo so ma io mi sono casato sull'ultimo gioco di Jurassic World di Jurassic World Bravo ma questo non era il canto vabbè non lo voglio sapere questa era la prigione del T-Rex perché fai male gigantonosauro quacciao ho mancato di alla grande ho fatto uno schifo appa bellissima no 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 ah ok sono stato io perfiato vedo una capra 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 no 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 c'è proprio i calci che belle il Pasosotti gli ha fatto pure molto male ci credo che quello è critico l'ha colpito là no oh ma questo rompe un po' le scatole dai bam bellissima bam bellissima bam aia no 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 che che mangi tu essere infame sparisci ho schiacciato la capra belli pam dai simpat io spero io sono curioso se faranno comunque un picchiaduro da regoletta tema di no sa un veloci ruot torro che poi della schiena nei in tema giurassi park 1 giustamente grigio che figo ogni dinosauro qui hanno almeno tre skin che poi qua lo chiamo raptor che poi mega raptor perché giustamente dobbiamo far vedere che sono grossi poverino che poi se notate ha le stesse animazioni del veloci dello spinosauro che abbiamo affrontato vabbè quasi perfect ragazzi così perfect non ho ricevuto molti danni abbiamo capito calmo vai pachi vai pachi ai capi fatto leggermente male bellissima ma ciao si posso far giocare al giocatore 2 ma chissà 3 ai mi ha fatto malissimo oh stai calmo stai no il poverino ok mi sono curato non si sa come va bene basta ah ho fatto pure male tiè così impari tiè sparisci entra la come fai nel film eri piccolo dentro ci entravi ora non più che cacchio devo affrontare a che stage sono ho perso perché dura comunque questi stage del cavolo vediamo un po' wow un suco mimo è giusto wow blu oddio sembra la schiena di giurassic world oddio identico quasi quasi identico se è arrivato sto figo ecco a me da fastidio siccome i mus hanno fatto stila lo spinosaura e hanno fatto una chiave con lo spinosaura nel gioco vabbè stai calmo e poi è bello grosso lui eh mi ha fatto leggermente ma stai calmo e poi tu sei uno che mangia pesce non devi rompere quindi le scatole a me in teoria guarda quanto sei grosso comunque cacchio è vero molo non ha watch out jogsina finisce fatality dai basta basta mi sto divertendo un po' dai ci voleva ci voleva non ho connessione non posso fare un cacchio quindi posso fare solo questi giochi per il momento vabbè però sono comunque sempre divertente si si sto parlando perché c'è un po' di audio del gioco e se mi metto a far sentire la music e cosa copyright everywhere dai guarda colpita al ginocchio bene aspetta se non sbaglio era l'ultimo ah penultimo eh se vabbè questo che cos'era il l'acrocantosauro se non sbaglio quest'è vediamo le scene le avete riconosciute comunque del film no di giurassi park 1 2 eccolo qua del 2 e c'era basta solo il 1 e 2 punto ah carantosauro questo è vero e infatti ancora non l'ho visto negli altri giochi attualmente e dopo vediamo l'ultimo di già madonna è stata una bestia sto piccoletto ha sfondato a un carnivore in 5 secondi ma fra poco dovrebbe riascina delle pulizie dai facciamo in fretta facciamo in fretta ho detto in fretta cribbio cribbio sparisci no aspetta no 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 poverino 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 un cazzo vero no 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 mi no è vabbè ma è partito è partito è vinto è amazing amazing come si dice ma amazing ultimo chi è chi è vedi ah il tricerato poi beh ci sta ci sta madonna quanto sei brutto ragazzi aspetta 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 perché le corda si trova davanti a il fatto oddio che orrore malma mattor bruttissimo mamma mia che schifo aiaiaia no bruttissimo proprio quanto sei fai schifo si non avete visto l'intro perché io lo sto sblocca lo devo sbloccare in due battaglie quindi questa prima battaglia e la seconda devo fare con un altro dinosauro per sbloccare la sua zona il suo stage madonna quanto sei brutto con quelle cose ma le corna proprio sotto sotto prima dei ma dopo che è successo che brutta cosa che ho visto no comunque no non si può guardare ragazzi le corna lì e poi bruttissimo vabbè se ripetiamo sono i primi giochi ma che che mi incorni tu ma vaffanculo vittoria giocci di vittoria piccoletto ma spacca culi congratulation agno d'arriva anno lo crede non ne ha fatto verde o fa due partite dopo a 2 comunque qua è finita ragazzi quindi posso staccare posso dire qui delta 28 passe chiudo ai prossimi video grazie